Ritorno in campo per l'FC Matese che non va oltre l'1-1 contro il Porto d'Ascoli. All'offerrante i padroni di casa aprono il match con questo gran tiro dalla lunga distanza di Galesio, sfera sul fondo. Corner di Tribelli che attraversa tutta l'aria, nessuno trova il tapin vincente. Verdeoro ancora pericolosi, Lancellotti ci prova dalla distanza, sfera sempre sul fondo. Queste le azioni che hanno contraddistinto la prima parte del match. Un Matese padrone del campo, un Porto d'Ascoli non pervenuto. Ma nella ripresa al tredicesimo gli ospiti riescono a concretizzare nel migliore dei modi la prima azione. Napolano prende palla, mette al centro, spizza, passa l'acqua per D'Alessandro che gonfia la rete per il vantaggio degli ospiti. Al settantesimo il Matese reclama un rigore cross di Tribelli. Nazareno trattiene Galesio, l'attaccante argentino cade in aria ma è tutto regolare. Nove minuti più tardi è Ricamato che viene atterrato, questa volta però è penalty. Galesio prima sbaglia e poi realizza l'uno a uno. Tiro cross di Spagna su cui Martino interviene tranquillo. Altro episodio che fa discutere sempre su Galesio che cade in aria ancora una volta è tutto regolare. Al Ferrante l'ultima azione è sempre dell'attaccante argentino Galesio, il suo sinistro è di poco fuori. Matese e Porto d'Ascoli termina uno a uno, mercoledì al Ferrante c'è il recupero contro il Trastevere.